E a proposito di questi giocatori arriva il discorso classico su Paolo Banchero, italiano ancora non ufficializzato, mettiamolo così, ma in teoria dovrebbe giocare con la nazionale italiana, che nell'ultimo periodo è anche sceso un po' a livello di draft, lo davano per primo, ora lo danno per quinto e bla bla bla, ma Paolo cosa ne pensi di Banchero? Che tipo di giocatore è? Che cosa può essere in NBA? La prima cosa mi ha sottratto per quest'anno lo scettro del Paolo più importante del college basketball, quindi un pochino con lui ce l'ho, no, scherzo, è annata particolarissima la sua perché era partito a bomba, letteralmente aveva fatto quelle due partite con Kentucky e Gonzaga in cui gli è entrato di tutto, un po' anche il tiro da tre che non è la sua grandissima arma e poi si era spento nei secondi tempi con i problemi di Krampi e un pochino la sua stagione ricalca l'andamento che ha avuto la sua partita contro Gonzaga, nel senso grandissimo spike iniziale, grandissimo, anche attenzione mediatica, si parlava già di sicura prima scelta per lui e poi nel senso grandissimo tempo nella partita con Gonzaga ha avuto i Krampi, nella seconda parte di stagione è completamente scomparso, rimanendo un po' ingabbiato in quello che sarebbe dovuto essere per l'NCA, perché lui per l'NCA è una potenza spalle a canestro, è una fisicità che anche pochissimi lunghi in NCA possono tenere, quindi lui sarebbe praticamente un 5 perfetto da NCA, ma non può giocare perché appunto c'è Mark Williams, però sarebbe un 4 da mettere spalle a canestro, non lo vuole fare, perché in NBA non avrebbe senso per lui, ad esempio, secondo me, non avrebbe senso per lui essere sviluppato ed essere usato come un 4 e quindi la sua seconda parte di stagione è andata sempre più incalando perché voleva dimostrare a se stesso e anche agli scout di essere in grado di poter essere un esterno che segna con continuità lui non l'ha fatto, già Barry Smith l'ha fatto invece, infatti c'è stato questo swap tra le scelte al draft e un pochino si è andato ad immalinconire la sua stagione il tiro non entrava, Duke ha iniziato ad avere sempre più crepe e un pochino, diciamo anche a livello emotivo, è andato sotto poi vabbè, sabato c'è stata la peggiore, l'ultima partita di Coach K al Cameron Indoor che è lo stadio di Duke sconfitta nel derby contro North Carolina, una delle peggiori North Carolina degli ultimi anni e nel discorso post partita si è visto molto, cioè mancherò molto triste e dal punto di vista anche emotivo di leadership è andata calando perché ad inizio stagione era molto più coinvolto anche nel trascinare i compagni e poi nel proseguio si è andato a spegnere è da capire, secondo me è un lungo, cioè nel senso in ottica fibra, in ottica nazionale è uno che in che va a schiacciare tutti sotto canestro esatto, cioè è un mismatch perenne lato NBA è davvero complicato, si parla tantissimo di Simmons o Randall come tipo di giocatore perché comunque per essere un lungo, la cosa è da che punto lo vediamo perché se è un lungo ha una grandissima visione di gioco e una grandissima mobilità se è un esterno la sua visione di gioco inizia ad essere non troppo convincente per avere così tanti palloni da ballander primario e comunque non ha una costanza al tiro così grandiosa nel senso nelle primissime partite contro appunto Kentucky, Gonzaga o Iowa State ma anche contro avversari minori aveva dimostrato un jumper dalla media che davvero ricordava quello di Carmelo Anthony dei bei tempi però poi diciamo a livello di costanza non è andata ad essere diciamo non c'è stata la costanza di rendimento su quel tipo di tiro lì e giustamente io capisco anche il suo lato in NBA da 5 non ci posso giocare cerco di svilupparmi come esterno però ho perso un po' di quotazione al draft ma sicuramente è stata anche una questione di livello mediatico che l'ha un po' forse messo troppa pressione sotto questo punto di vista anche perché Duke ora per chi non lo sa è l'università del college basketball cioè è la squadra più famosa con il coach più famoso quando si parla, anzi quando si pensa al college basketball si pensa a Duke e North Carolina che è la più grande rivalità del college basketball e anche dello sport in generale è una delle grandi rivalità dello sport in generale e comunque ha sofferto il fatto che Duke oltre ad essere Duke quest'anno aveva anche l'attenzione mediatica dell'ultima stagione di Coach K e il fatto che era una squadra che già assolutamente è mega analizzata e ha praticamente una squadra NBA per la quantità di reporter che ha quest'anno era doppiamente analizzata per questa questione lì e secondo me un pochino ha patito ha patito anche il fatto che Coach K negli ultimi 5-6 anni sta avendo dopo il titolo del 2015 sta avendo una deriva a livello di coaching abbastanza rivedibile fin dai tempi di Zion ed Erje Barrett diciamo Coach K non allena più ma neanche riesce a gestire una rotazione a livello sensato perché un giocatore che per due o tre volte vedi che nel primo tempo domina e poi nel secondo tempo addirittura deve uscire per crampi magari devi aggiustare qualcosa nelle rotazioni magari non lo devi spremere subito si è fossilizzato un po' alla popo ci mettiamola così però esatto, esatto, assolutamente e però ad esempio Coach K ha sprecato negli ultimi 6-7 anni post 2015 appunto un paio di opportunità di arrivare alle Final Four perché sia questa con la Gonzayan assolutamente erano i favoriti al titolo però sta perdendo alcune possibilità per chiudere benissimo la carriera in bellezza comunque non si esce secondo me da Top Four per Banchero e poi ciò che c'è un video